etan storia di un'anima capitolo 8 margaret seppellì il vecchio rudy cercando nei propri ricordi una preghiera da recitare per lui ma nessuna risiedeva completa nella sua mente quindi dopo alcuni tentativi infruttuosi sconsolato vi rinunciò un saluto in ogni caso volle farlo alzò le braccia al cielo e con quanto fiato aveva in gola gridò più e più volte al vento grazie la melanconia gli fece compagnia per tutti quei lunghi mesi invernali ma l'animo di etan era mutato l'ozio a cui era costretto gli consentì di comprendere meglio le parole di rudy anche se il tempo come sempre tendeva ad annacquarne il senso questo era già successo altre volte e lui consapevole di ciò quella volta operò una strenua resistenza non vi riuscì del tutto ma il senso di quell'incontro lo portò con sé quando in primavera si mise in cammino incerto se tornare verso i boschi o proseguire nella prateria sostò ancora alcune settimane in quel residuo di ranch rimise in sesto il fucile che a rudy serviva solo come stampella dal momento che la frase io incontro sempre chi devo qui o altrove non pensava valesse anche per lui quella era una di quelle cose che aveva sentito ma non compreso inoltre la carne non gli dispiaceva e in un momento di umorismo disse ad alta voce come fanno spesso i solitari forse io dovrò cambiare ancora molte volte d'abito prima di essere pronto partì in un mattino mite soleggiato di maggio e venne subito inghiottito lui e i due muli dalla prateria che gli era stata cortile per tutto quel lungo inverno l'erba era alta e l'esperienza gli diceva che l'acqua non poteva essere lontana la fiutava come un rabdomante e non aveva mai fallito in questo senso quella specie di fattoria aveva un pozzo naturale ma nessuno si sarebbe insediato in un luogo troppo distante da un fiume infatti non dovette percorrere troppe miglia prima di udirne l'inconfondibile sciabordio era enorme più si avvicinava più il rombo diveniva imponente confio come un otre pieno lambiva gli argini scorrendo veloce e rinfrescando l'aria per molti metri intorno a sé avrebbe costeggiato e camminato al suo fianco come a un vecchio amico senza una destinazione precisa visse di caccia e pesca proseguendo tranquillo giorno dopo giorno perché prima di un nuovo inverno sarebbero dovute passare ancora due stagioni quando uccideva una lepre un capriolo però sentiva dentro un disagio nuovo inconsueto e si ritrovò senza aver troppo riflettuto a recitare ogni volta una frase di commiato per l'animale che lo avrebbe nutrito come sapeva facevano molte tribù percorse centinaia di miglia costeggiando sempre quel maestoso fiume del quale non conosceva il nome ma supponeva essere il missuri senza mai incontrare nessuno fino al giorno in cui quando l'estate stava culminando e già gli steli appassivano dalla riva opposta digiunsero inconfondibili voci di bambini lo avevano visto e come accadeva sempre gli incontri casuali destavano interesse e curiosità immediatamente apparvero gli uomini per accertarsi che non vi fosse pericolo e dopo averlo scrutato con attenzione uno di essi si decise a rispondere al suo saluto e tang era ansioso di incontrare qualcuno e spezionando il letto del fiume cercò se mai vi fosse la possibilità di un guado ma nemmeno un salmone avrebbe potuto attraversarlo con un gesto di disappunto sbatté per terra il copricapo di castoro appartenuto a rudi e si sedette sconsolato sul greto scosceso le voci che gli giungevano dalla riva opposta seppur amichevoli non erano che suoni incomprensibili la natura li divideva e da quel giorno la solitudine divenne insopportabile come per l'assetato ad essere costretto a camminare al fianco di una brocca d'acqua senza poter bere etan si affidò alla speranza che le loro strade prima o poi si sarebbero congiunte ma questo non avvenne dopo alcune settimane vide i carri deviare verso nord allontanandosi dal fiume e da lui li guardò sconsolato come un bambino cui si è sfuggito l'aquilone e riprese deluso il cammino che dopo tre mesi ancora lo vedeva intrappolato nella prateria deserta aveva preso l'abitudine di parlare con se stesso e a volte con coloro che lo avevano accompagnato nella vita anche se soltanto per brevi momenti la sera accanto al fuoco si immaginava di riunirli tutti badando di riservare accanto a sé un posto per rebecca e iniziare poi lunghe conversazioni immaginarie non era pazzo anche se a volte temette di diventarlo in quei momenti si affidava alle parole di rudi qualunque cosa fosse successo sarebbe vissuto ancora e con quel pensiero ogni volta si addormentava più quieto finalmente con l'autunno anche il paesaggio attorno a lui cambiò ma non per rivolgersi della stagione bensì perché la prateria in lontananza cominciò a presentargli alla vista qualche albero e poi di più fino a che si fuse con colline boscose all'interno delle quali anche il fiume venne inghiottito contento di abbandonare la monotonia della pianura si addentrò nella fitta boscaglia di ontani aceri e querce che di lì a poco avrebbero indossato la magnifica livrea autunnale ora doveva trovare un rifugio ma a parte quella carovana incontrata mesi prima nessun essere umano pareva abitasse quei luoghi distorse il pensiero dall'inverno imminente confidando sul fatto che da sempre il corso della sua vita si raddrizzava proprio quando il baratro si faceva più vicino si concentrò su dove allestire il bivacco quando sentì l'inconfondibile e disgustoso odore di carne putrefatta il lezzo giunse improvviso e non solo a lui i due muli che gli facevano da cavalcatura e da soma cominciarono ad arretrare inquieti e non tentarono di fuggire solo perché indecisi su quale direzione prendere questo gli diede il tempo di impastoiarli non sapendo egli stesso cosa fare oltre a caricare il fucile ma aveva solo un colpo la posizione in cui si trovava non era ottimale ma non volle abbandonarla non sapendo da quale parte si celasse il pericolo la carne putrefatta non rimane mai sola e di questa sono ghiotti soprattutto gli orsi attese per ore guardandosi intorno senza mai avvertire alcun rumore l'odore nauseabondo seguiva il vento allontanandosi da lui per poi tornare la notte passò insonne senza portare alcuna minaccia per tanto il mattino seguente quando il sole non era ancora sorto del tutto decise di riprendere il cammino i muli si erano assuefatti a quel fetore eppure i requieti non tentavano più la fuga d'altro canto se un orso fosse stato in zona qualche segno di sé lo avrebbe già dato i predatori tendono agguati ma non con sofisticato calcolo la carcassa c'era lì da qualche parte ormai probabilmente il banchetto doveva essere già stato consumato da tempo riprese guardingo a inoltrarsi nella foresta verso quello che a prima vista gli sembrò un sentiero qualcuno percorreva quei luoghi e lo aveva fatto anche di recente e in ogni caso con una frequenza sufficiente a impedire che il sottobosco si riproducesse completamente questa constatazione lo rese quasi euforico era un segno di vita umana un possibile soccorso per l'inverno volle vedere dove lo avrebbe portato e in se stesso qualcosa gli fece supporre che lo avrebbe condotto alla baracca di un trapper via via che procedeva l'odore di carogna divenne insopportabile e dai rumori che sentiva contrariamente a quello che aveva pensato prima qualcuno stava banchettando ancora nuovamente i muli si impuntarono rifiutandosi di proseguire e anche questa volta fu costretto a contenerli ben stretti con le pastoie doveva assolutamente sgombrare il sentiero da questa minaccia poiché non poteva permettersi di cambiare strada qualunque cosa fosse doveva affrontarla con il fucile carico pronto a fare e stringendo i denti per controllare la paura seguì il tremendo fetore fin dove traeva origine intenta a divorare i resti di quello che una volta era un uomo pareva essersi data appuntamento tutta la nutrita fauna di piccoli predatori del luogo la sua presenza se dapprima non venne rilevata da nessuno di colpo lo fu da tutti fuggirono più per la sorpresa che non per la paura tranne un piccolo branco di sciacalli decisi a contendergli la preda non ebbe bisogno di sparare conosceva bene quegli animali per sprecare inutilmente un colpo che poteva risultargli utile in seguito gli bastò proseguire con decisione verso di loro perché fuggissero come gli altri prima quello che si presentava ai suoi occhi erano i miseri resti di un uomo probabilmente ucciso da un orso che dopo essersene cibato a sufficienza ne aveva lasciato la carcassa alla moltitudine di piccoli carnivori saprofagi levatosi il cappello in seguito di rispetto ritenne qui a quel punto fare una sepoltura oltre che disgustoso sarebbe stato inutile e si voltò per tornare a recuperare i muli deciso a compiere una deviazione per riprendere il cammino più avanti ormai aveva intercettato quel sentiero e ne avrebbe seguito il percorso ovunque lo avesse condotto essendo quella l'unica traccia di umanità incontrata da mesi stava pensando che forse avrebbe trovato la capanna di quello sfortunato quando avvertì dietro di sé un lamento sommesso tese l'orecchio per sentire meglio da dove provenisse ma senza udire nulla eppure non l'ho immaginato stette fermo in ascolto ancora per un istante tese l'orecchio per udire solo il fluscio delle foglie sollecitate dal vento e il cinguettio degli uccelli con scrupolo perlustrò guardingo il luogo della tragedia compiendo un percorso circolare attorno ai resti dell'uomo senza scoprire nulla seppur fosse stata netta la sensazione di un lamento dovette ammettere che nessun sopravvissuto incapace di fuggire poteva essersi in prossimità di un carnaio del genere sarebbe stato divorato a sua volta deve essere stato il verso di qualche animale dette un ultimo sguardo compassionevole ai poveri resti sparsi per ogni dove quando in modo più distinto udì nuovamente il gemito inequivocabile di un bambino trattenne il respiro per individuarne l'origine ma questa volta il lamento non cessò poiché chi lo emetteva seppur terrorizzato evidentemente voleva condurlo a sé etan con pazienza lo seguì per giungere sotto il tronco non troppo lontano di una giovane quercia dai cui rami intricati il viso emaciato e febbricitante di un bambino lo fissava tremante etan comprese immediatamente quello che era successo ne facevano testimonianza le unghiate che il tronco smembrato dell'albero aveva dovuto sopportare forse il padre del ragazzo avvertendo il pericolo aveva issato il figlio il più in alto possibile per salvarlo su giovanotto vieni giù con me starei al sicuro è tutto finito ormai questo disse imprimendo alla voce tutta la dolcezza che gli era possibile ma sapendo che nessuna parola fosse adatta per risposta ottenne un urlo agghiacciante etan non aveva mai udito niente di simile in vita sua la disperazione contenuta in quelle urla era insopportabile gli occhi gli si inondarono di lacrime poiché comprendeva lo strazio di quel bambino sotto quegli occhi il padre era stato divorato il fanciullo si protendeva verso di lui incapace ormai di controllare le proprie emozioni per troppo tempo era rimasto ostaggio di paura rabbia orrore e disperazione e ora le braccia di uno sconosciuto che gli offriva salvezza conforto e rifugio gli impedivano di ricordare che dietro ordine del padre si era legato al tronco dell'albero se la spessa cinghia che lo tratteneva si fosse spezzata il ragazzo sarebbe precipitato fra le braccia di etan che per un momento proprio questo suppose stesse accadendo ma il cuoio era forte e il ragazzo debole etan posò il fucile con una certa riluttanza ai piedi della quercia in modo tale che ne fosse facile il recupero e si so con il coltello fra i denti per liberare il bambino sì perché guardandolo più attentamente esso non poteva avere più di sei o sette anni il panico più totale invadeva quella creatura che il digiuno e la paura avevano reso gracile e minuta non si rendeva più conto di essere legato e cercava di buttarsi sempre con più foga fra le braccia di etan mano a mano che questi si avvicinava etan dal canto suo temendo che la cinghia cedesse si so il più velocemente possibile fra i rami per raggiungerlo e quando le sue possenti braccia lo strinsero a sé con tutta la tenerezza possibile il bambino tremante vi si accoccolò come in un nido il suo urlo divenne pianto e poi straziante cantilena fatta di singhiozzi ogni volta che etan cercava di staccarlo da sé per iniziare insieme la ridiscesa egli vi si abbindhiava dimostrando un vigore insospettabile e allora doveva desistere e aspettare ancora le sue gambe e le braccia però costrette in una posizione innaturale cominciarono ad essere percorse da un fastidioso formicolio doveva decidersi a scendere o sarebbero caduti entrambi la pietà lo aveva già trattenuto troppo a lungo lassù per un istante gli sembrò che tra le sue braccia vi fosse la piccola evelyn in uno dei tanti momenti della sua lunga malattia quando accanto al tepore del camino si addormentava avvinta a lui una vena di rimorso lo colse era consapevole di aver dedicato la maggior parte del suo dolore alla mancanza di rebecca ma ora che il ricordo di lei cominciava lentamente a sbiadire ecco che materializzandosi in quel bambino emergeva quello della figlia nitido e doloroso più che mai prima di decidersi a scendere chiese conforto al cielo dove immaginava che rudì appollaiato fra le nuvole lo stesse osservando e disse ad alta voce dammi la forza di fare la cosa giusta ora il bambino non cessava di tremare e lamentarsi ma ambedue le cose consumarono evidentemente le sue ultime energie residue poiché gli svenne di lì a poco fra le braccia approfittando di questo dopo aver tagliato la cinghia che lo legava al tronco ridiscese senza fatica reggendolo con una sola mano tanto era esile e leggero quasi corse per allontanarsi il più velocemente possibile dai miseri resti e raggiungere i muli che lo attendevano brucando l'erba ignari nella loro innocenza adagiò il bambino su un soffice letto di foglie e liberati gli animali dopo averlo ripreso in braccio si incamminò veloce lungo il pendio compiendo un semiserchio sufficiente a evitare il luogo dell'orrore etan non avrebbe saputo dire se il piccolo dormisse o volesse caparbiamente sostare in quel dormiveglia dove è possibile rifiutare la realtà ma in cuor suo sentiva di essere grato all'universo per l'opportunità di essere utile a quella piccola creatura di tanto in tanto lievi singhiozzi scuotevano il corpicino avvinto a lui come un piccolo ragnetto fortunatamente il sentiero ogni passo diventava sempre più netto ed evidente certamente tra non molto sarebbe dovuto comparire un capanno o qualcosa di simile gli era bastato dare una fugace occhiata a quello che restava dei vestiti della vittima per comprendere che non era equipaggiata per un lungo viaggio dovette fermarsi molte volte per sgranchirsi il braccio ma solo per passare il bambino all'altro ogni volta infatti che tentava di posarlo a terra questi innalzava spasmodicamente le gambe ossute gridando disperato questo rituale al quale etan non nebbe l'animo di sottrarsi continuò fino quasi al tramonto e fu proprio quando esausto stava pensando di fermarsi per la notte preoccupato per come avrebbe potuto gestire la paura del bambino che un lume non troppo lontano fece capolino fra le foglie ondeggianti subito scomparve ma per ricomparire nuovamente allo scostarsi dei rami successivi in cuor suo sperò che lì vi fosse la madre o qualcuno in grado di occuparsi del bambino e per come poter riuscirvi spinto dall'ansia di saperlo si mise quasi a correre prima che potesse chiedere aiuto il bambino si rianimò tra le sue braccia e dovette trattenerlo a forza per impedirgli di buttarsi a terra in malo modo un grido tenero e terribile scuorciò il silenzio della notte mamma mamma la mamma c'era e il dolore dell'attesa l'aveva svuotata di ogni energia aprì la porta e barcollando li raggiunse gettandosi ai piedi di etan mormorando appena dallo a me ti prego poi rivolta teneramente al bambino non parlare ora piangi con me tommi era giovanissima quasi una bambina agli occhi di etan la sofferenza dell'attesa aveva fatto un ottimo lavoro su di lei rendendola quasi incapace di camminare entrambi si affidarono a lui come a un padre e la sua forza fu sufficiente per trasportarli quasi di peso in casa per alcuni giorni dovette nutrire entrambi temendo addirittura che la donna non sopravvivesse per quello che ne poteva sapere erano giorni che non mangiava e certamente se non fosse arrivato lui con il bambino si sarebbe lasciata morire non poteva darle torto alla morte di rebecca ed evelyn solo le cure della sua famiglia e la forza di yuk erano riusciti a strapparlo alla morte come poteva farcela una donna sola in una terra solitaria e selvaggia a sopportare una tragedia come quella aveva salvato quelle due giovani vite e ora se ne sentiva responsabile avrebbe passato l'inverno con loro e poi cacciò il pensiero di cosa avrebbe fatto in primavera dal momento che ora non poteva darsi una risposta e si volse guardare madre e figlio dormire abbracciati erano belli entrambi con lineamenti dolci e delicati il bambino ripulito dalle mani amorevoli della donna sembrava una minuta copia di sua madre a quella constatazione etan sorrise pensando che forse quel ragazzino sarebbe diventato un uomo troppo fine per piacere alle donne ma che ne sapeva veramente lui delle donne uscì nella notte stellata e si sedette sul dondolo di frassino un breve pensiero per l'uomo che lo aveva sapientemente costruito lo rattristò un po e si sentì di dirgli tranquillo a loro penserò io il fiume valle per quanto lontano fosse era ancora audibile e a quel suono si unì il bubolare del gufo la luna suo ultimo quarto illuminava quasi a giorno di una luce azzurra laia davanti alla solida casetta la pace della natura era attorno a loro nei giorni successivi spezzano attentamente il fienile e la stalla per verificare se vi fossero delle riparazioni da fare prima dell'inverno ma dovette constatare che l'uomo le aveva costruite bene solo non si capacitava del motivo per cui avesse portato la sua famiglia in un luogo così selvaggio e pericoloso la donna e il bambino lo guardavano con gratitudine mista a timore entrambi quando passavano accanto a lui lo facevano sempre a capochino senza mai parlare nella madre era evidente il timore di essere prima o poi reclamata come femmina mentre il bambino lo temeva per le cicatrici che ne devastavano il volto dal canto suo etan non fece mai nulla per aumentare la loro paura si teneva prudentemente indisparta anche se veniva servito con premura dormiva nel fienile e le uniche parole che aveva detto alla donna fin dal giorno in cui essa fu in grado di badare a se stessa e al bambino furono ora io vado a dormire nel fienile tu chiuditi dentro e non aprire a nessuno che non sia io vederò io a voi per un po' nei giorni successivi si accorse che il bambino non parlava e dallo sguardo rassegnato della madre suppose che l'orrore vissuto ne fosse la causa viveva come un pulcino sempre con una mano fissata sposmodicamente alla lunga gonna della madre ne facevano testimonianza le nocche pallide che ne artigliavano il pesante tessuto etan si abituò col tempo a vederlo come un appendice della giovane donna la quale lentamente iniziava a riprendere vita anche se il pianto giornaliero testimoniava che aveva amato suo marito passò ottobre le giornate si accorciavano e le foglie a causa del vento del nord in anticipo quell'anno cominciavano prematuramente a cadere poi tornando il sole indecise si trattenevano nuovamente sui rami tremolanti però quasi fossero consapevoli del loro tempo ormai trascorso etan da anni viveva in simbiosi con boschi e praterie ed era proprio l'autunno malinconico e colorato la stagione che apprezzava di più appena ebbe terminato di sistemare una parte del piccolo porticato dove l'uomo del quale ancora non conosceva il nome aveva riposto con cura la legna per l'inverno etan si sedette su un vecchio ma solido sgabello di quercia detergendosi la fronte sudata col dorso della mano quando fissando lo sguardo umido davanti a sé si trovò a osservare la prateria dalla quale era venuto si accorse meravigliato di osservare lontano ma chiaramente visibile nell'orizzonte nebbioso una pista che non poteva essere opera della natura subito la mente pronta recuperò un ricordo non lontano stava nuovamente osservando l'oregon trail anche se come allora ancora non lo sapeva doveva assolutamente capire da dove partiva e soprattutto dove conduceva una pista come quella si stupì di come la prateria vista dallo scorcio fra i rami di quel bosco di betulle bianchissime fosse vicina alla casa a dispetto di quanta strada fece quando vi era giunto la prima volta passi leggeri multipli alle sue spalle lo fecero voltare per vedere madre e figlio avvinti in un unico essere porgergli con sollecitudine un candido asciugamano tentò di rifiutarlo certo le sue mani sporche lo avrebbero insozzato ma la donna senza parlare piegando la testa di lato e tendendo la mano gli formulò un invito che non poté rifiutare fortemente a disagio per quella gentilezza a cui non era più abituato dopo aver devastato l'asciugamano si alzò senza osare restituirlo lo tratteneva nella grande mano come fosse un trofeo personale e quasi lo nascondeva sapendo lo stato in cui lo aveva ridotto la donna di cui non conosceva ancora neppure il nome quasi dovette strapparglielo dalle mani quel gesto pur estremamente delicato conteneva insito in sé la risolutezza che apparteneva a tutte le solide donne di frontiera nel cedere il panno età non poteva a meno di notare quanto fosse bella sensuale e modesta nello stesso tempo questo accese in lui un desiderio che lo fece arrossire e del quale si vergognò ma la donna era comparsa improvvisamente e lui non aveva avuto modo di prepararsi all'incontro con lei non possedeva una femmina da troppo tempo per poter essere in pace con i propri impulsi che già prima di quel giorno si erano rifatti vivi era stufo di procurarsi il piacere da solo quando la soglia del desiderio si faceva insostenibile ma quella famiglia era già stata provata a sufficienza senza che lui che lui cosa pensò turbato con se stesso per quel desiderio la primavera gli avrebbe presi entrambi e portati nel luogo civilizzato più vicino per proseguire poi da solo come sempre la sua vita raminga doveva pensare ad altro e poi nemmeno un istante in tutte quelle settimane la donna era rimasta sola sempre il piccolo la seguiva silenzioso come cucito al suo vestito temendo di essere trasparente allo sguardo di lei che ancora lo osservava sostando indecisa con la ciugamano in mano disse con malcelato disagio la prima cosa che gli venne in mente tuo marito era un uomo previdente a giudicare da quanta legna ben lavorata sistemato per l'inverno sì mi sentivo sicura con lui gli volevamo molto bene lacrime discrete si materializzarono agli angoli dei suoi grandi occhi gonfi contagiando il figlio e anche etan che tossì volgendosi a scrutare troppo intensamente l'anonima carrucola del pozzo la donna colse però quel fugace gesto e proseguì con mossa abbatteva gli alberi sempre di luna calante perché diceva così il legno si sottometterà meglio al fuoco sì proprio così diceva Tommy sapeva leggere e a volte si esprimeva in modi che io faticavo a comprendere nel parlare si dondolava un po come fanno i bambini timidi facendo svolazzare l'asciugamano che teneva ancora stretto in mano in età ogni desiderio svanì a quella vista quella sera cenarono in silenzio ma anche se nulla era cambiato dal giorno prima parevano una famiglia nei mesi successivi nonostante il dialogo tra loro risultasse ancora incerto e soggetto sempre a giustificazioni vero era che l'interesse del bambino nei suoi confronti aumentava di giorno in giorno non meno di quello di sua madre per gioco etan scommise con se stesso che in capo a una settimana sarebbe riuscito a farlo staccare da lei liberandola da quella dolce catena non troppo oltre il fiume dove la pista quasi ne sfiorava la riva sorgeva un villaggio faticente scombinato come quasi tutti quelli che lo abitavano non aveva un nome al momento che non avrebbe avuto un futuro sorgeva lì semplicemente perché serviva per un breve momento nella storia di quei luoghi come centro di raccolta per trapper valordi cacciatori e naturalmente prostitute ma anche per alcuni uomini per bene clayton wood repellente alla vista più ancora che per l'odore di cui ormai era indissolubilmente impregnato se ne stava stravaccato su una sudicia panca reclamando la solita zuppa di fagioli sicuro che nessuno sarebbe venuto a sedersi accanto a lui tranne naturalmente geremia suo fratello tommy breadford non è ancora sceso a fare provviste e dire che l'inverno è ormai alle porte trangugiò la brodaglia che gli venne sbattuta sul tavolo in malo modo senza che lui vi facesse caso riprendendo subito a parlare sbruffando schifosamente fagioli e minestra dai lati della bocca non vorrei che gli fosse successo qualcosa geremia dall'aspetto simile al fratello anche se molto più grosso ma sprovvisto quasi completamente di cervello rispose subito da quando ti preoccupi di qualcuno tu clayton schignazzò spruzzando cibo quasi sulla faccia di geremia che non si scostò neppure poi davanti alla stupidità manifesta del fratello iniziò a ridere smascellandosi così tanto quasi da strozzarsi l'ira per il disagio subito a causa dell'ottusità del fratello lo fece avvampare stupido è per la sua bella mogliettina che mi preoccupo non per lui se geremia non fosse stato quasi il doppio di lui certamente lo avrebbe preso a calci ma sapeva bene per esperienza che non poteva permettersi di farlo dallo sguardo del fratello comprese che questi continuava a non capire quindi rinunciò come era abituato a fare e disse ma solo per se stesso se fra una settimana non sarà venuto vedremo di andare a trovarlo noi dormire nel fienile ora che l'inverno era alle porte e il freddo già arrivato non era più possibile per cui etan si trasferì nel soppalco della casa come già concordato qualche settimana prima ma ciò non avvenne senza qualche imbarazzo qualche giorno prima la donna titubante sentì la necessità di presentarsi erano a cena silenziosi come ogni sera quando lei riuscì dopo vari tentativi falliti a dire mi chiamo margaret ho 23 anni e questo è mio figlio tommy junior lui ne ha sette volgendo lo sguardo amorevole verso il piccolo seminascosto dietro di lei che la fissava annuendo disse noi siamo cattolici e tu e tu ripete il bambino rendendo quella sera un evento parlò nuovamente per la prima volta da quel tragico giorno etan sorrise e la madre pianse stringendo il bambino a sé come se si fosse verificato un miracolo nei giorni che seguirono etan sentì spontaneo il bisogno di raccontare la propria vita e lo fece senza tralasciare nulla che non fosse marginale o inadatto come l'uccisione del povero gordon il cui ricordo lo tormentava ancora ma anche se le tragedie erano molte le loro vite passate così condivise li unirono facendoli diventare veramente una famiglia anche se ancora non lo avevano del tutto compreso clay clay ma se troviamo tommy vivo cosa gli diciamo alzando gli occhi al cielo come a voler esorcizzare l'imbecillità del fratello clay rispose gli chiediamo di prestarci la moglie per un'oretta geremia incapace di cogliere l'ironia del fratello strabuzzò gli occhi e rispose tu sei pazzo quello ci spezza in due grande grosso com'è anche tu sei grosso geremia non dirmi che hai paura geremia non aveva paura ma era completamente stupido e pensando di doversi comportare letteralmente come il fratello aveva detto riteneva che il farlo fosse comunque rischioso tranquillo geremia sei vivo e sta bene passiamo oltre e torniamo indietro dette quindi di sprone sputando tabacco masticato sfruttando le fessure fra i radi denti marci senza neppure aprire la bocca arrivarono cauti e guardinghi quando il sole tiepido di fine novembre nel suo calare cominciava ad essere coperto dalle alte chiome dei larici intorno alla casa l'atmosfera era livida come il piombo quasi grigia la neve non sarebbe scesa ancora ma certamente si addensava non troppo distante etan non li vide arrivare e nemmeno li sentì intento come era a scavare una profonda buca nella quale seppellire uno dei muli morto improvvisamente erano giunti silenziosi come una tempesta improvvisa e quel poco rumore che fecero non raggiunse le imperfette orecchie di etan immerso nella fossa profonda nella mente perversa e malata di clayton la convinzione che tommy avesse subito qualche incidente era quasi certa ma essendo un codardo agiva sempre con estrema cautela temeva che se l'uomo contrariamente a quello che supponeva fosse stato vivo non avrebbe faticato a capire le loro intenzioni sostavano guardinghi come sinistri avvoltoi proprio davanti alla porta quando margaret comparve sull'uscio con un secchio in mano clayton sorrise nel vedere il piccolo trogolo di legno rotolare nel fango insieme ai panni e allora con la voce innaturale di chi non è mai in grado di pronunciare parole gentili disse chiama tommy sei in casa e dispensando la scivia tese il volto in avanti verso la donna come a sottintendere sei ancora vivo non era più vivo e se già non l'avesse avuta quella certezza gli venne dallo sconvolgimento mostrato dal piccolo appiccicato a lei subito la man sana voglia animale che lo aveva portato lì lo fece fremere d'impazienza ma si trattenne per meglio valutare la situazione e con lo stesso tono proseguì io e mio fratello geremia vorremmo trattare un affare con tommy se puoi chiamarlo ma se non è qui lo aspetteremo volentieri è quasi il tramonto e non penso che voglia lasciare una mogliettina carina come te sola e in difesa non sola e nemmeno in difesa pronunciò una voce profonda e tagliente come una lama alle sue spalle dopo aver scavato a sufficienza nella morbida terra del sottobosco etan stava tornando per aggiogare il mulo superstite alla carcassa e trascinarla il più presto possibile nella fossa quando intravide seppur parzialmente occultate dai rami le sagome di due uomini davanti all'ingresso della casa il pericolo gli si mostrò evidente sui volti di margaret e tommy allora lentamente aveva ripercorso i pochi passi appena fatti allo scopo di recuperare la pesante vanga decidendo all'istante che il piccone non sarebbe stato altrettanto funzionale e impugnando anche l'ascia usata per sfrondare i rami attorno alla fossa silenzioso come un puma si era portato alle spalle dei due uomini appena in tempo per udire le parole di clayton era dunque pronto alla lotta quando proferì quelle parole nonostante le esperienze che la sua vita vagabonda gli avevano procurato al contrario del suo vecchio amico luke lui non era in grado di cogliere immediatamente il pericolo perché una parte di sé nonostante tutto era incline al dubbio supponeva sempre che nei fatti le intenzioni delle persone fossero migliori dell'apparenza per questo nelle parole appena pronunciate aveva evitato di imprimere tutta la forza e la minaccia necessarie e aveva nascosto l'ascia lungo la propria gamba ma quando lo sguardo sorpreso di clayton si fissò nel suo percepì tutto l'abisso di malvagità contenuto in quei piccoli occhi cisposi e non ebbe più il dubbio di dover combattere clayton wood rimase troppo a lungo in silenzio ma nemmeno un istante di quel tempo venne sprecato se non per trovare il modo di eliminare l'ostacolo che si frapponeva fra lui e la donna che ormai credeva di poter violare impunemente la cosa però non era semplice dal momento che i fucili erano ancora infoderati e scarichi avevano asce e coltelli ma l'uomo che stava loro di fronte impugnava saldamente una pesante pala dando l'impressione di sapersene servire a dovere pareva solido per nulla intimidito dalla loro presenza e con delle cicatrici che ne testimoniavano passate lotte vittoriose tutti questi pensieri lo portarono a concludere che la loro era stata semplicemente una visita di cortesia e così disse salve straniero io e mio fratello geremia eravamo preoccupati che fosse capitato qualcosa a tommi e per questo motivo siamo venuti a vedere se se la bella mogliettina avesse bisogno di un uomo o meglio due lo interruppe geremia non avendo compreso che il fratello ben valutata la situazione aveva deciso di rinunciare ok caprone senza cervello adesso accomodati io verrò dopo di te disse clay livido di rabbia accompagnando con un sorriso schembo il gesto della mano a indicare etan che sostava fermo davanti a loro con agilità sorprendente a dispetto della stazza geremia balzò dal cavallo impugnando un coltello più simile a una mannaia che non ha un comune pugnale i suoi occhi non mostravano alcuna espressione tanto erano glaciali e privi di vita lei non smontò neppure dal cavallo perché era un codardo e se le cose si fossero messe male sarebbe comunque fuggito senza rimorsi era un essere incompleto nell'anima non ancora evoluto alla dignità di uomo quando geremia giunse a una distanza che ritenne utile per neutralizzare il colpo di pala che supponeva di dover subire alzò il possente braccio protetto dalla pelliccia ma inaspettata ricevette in pieno viso lascia che etan dal basso verso l'alto gli scagliò addosso sebbene il colpo non fosse mortale poiché l'arma nel modo in cui era stata scagliata lo aveva colpito di piatto senza troppa forza lo fece vacillare per il dolore e la sorpresa quel breve istante fu sufficiente con un tremendo fendente dal basso verso l'alto etan fece fuoriuscire la punta della pala dal cranio dell'uomo con un sinistro suono di ossa frantumate aveva affondato l'attrezzo così in profondità nella grossa testa che geremia cadendo riverso all'indietro l'aveva strappato dalle sue mani lasciandolo disarmato subito etan alzò lo sguardo preoccupato verso l'altro uomo malaya era deserta sulla porta di casa margaret e suo figlio entrambi con la bocca spalancata in un tremendo urlo silenzioso guardavano inorriditi porta in casa il bambino e non uscire più la donna obbidì quando etan imbragò con la corda le gambe di geremia questi scalciava ancora debolmente nelle ultime convulsioni dell'agonia attese con rispetto che divenisse completamente immobile per estrarre la pala dal volto devastato poi senza più voltarsi lo trascinò al bordo della buca appena fatta rendendoci conto di doverla allargare certamente il mulo non avrebbe gradito quella compagnia era notte fonda quando rientrò in casa sporco e sudato madre e figlio usi in un unico essere tremante quasi nascosti si erano ingilocchiati a pregare accanto al cammino spento allora lui acceso il fuoco si sedette accanto a loro stringendoli a sé a età non piaceva uccidere soprattutto in quel modo il bambino scosso da singhiozzi che con il passare del tempo divennero sempre più flebili si addormentò appoggiando la testa sulle gambe della madre intenta a cantare una dolce melodia lassù lassù dove il cielo è blu dove nasce il sol troverai l'amor là là su quei monti d'or etan stesso con le braccia abbandonate lungo i fianchi ancora intrise di sangue e fango si era placato accarezzato da quella voce armoniosa e immobile davanti a loro sentì forte il desiderio di rimanere lì poiché non avrebbe sopportato di stare solo quella notte anche il soppalco sarebbe stato già troppo distante continuando a cantare margaret con l'amore paziente e infinito delle madri accarezzava senza pose il capo del bambino ancora scosso da tenui singhiozzi quelle mani le avrebbe volute anche lui fra i capelli ma infine la vide allontanarsi insieme a tommy che ciondolava assonnato appoggiato a lei per raggiungere il letto e sentì quasi abbandonato poiché il suo animo turbato anelava almeno a un saluto era solo forse più di altre volte e stava pensando di tornare fuori a respirare i profumi della notte quando vieni sei tutto sporco voglio ripulirti margaret era ricomparsa tendendo la mano esile e delicata verso di lui eppure afflitta e sconfortata nei suoi occhi brillava una nuova luce quella fu per entrambi la prima notte d'amore senza che i loro corpi vi prendessero parte se vorrai sarà tua fra un anno ebbe a sussurrare vergognosa etan non rispose deglutì consapevole che l'attesa sarebbe stata lunga clayton wood giunse al villaggio ormai deserto e silenzioso aspettò quindi il mattino seguente per raccontare l'accaduto secondo la sua personale versione dei fatti tommy breadford deve essere morto e uno straniero che si trovava là senza motivo ha spaccato la testa a geremia solo perché io gli avevo chiesto che fine avesse fatto tommy nessuno fu disposto a credere che le cose fossero davvero andate così clayton infatti era un uomo turpe e falso più di giuda ma la sorte toccata a tommy non fu indifferente ai cuori migliori che pure esistevano in quel sinistro villaggio preoccupati anche per la giovane moglie ed il figlio era vero che fosse un solitario ma almeno due volte all'anno si recava all'emporio per fornirsi di sementi e attrezzi salutava sorrideva e se ne andava nulla di più e nulla di meno come molti del resto indotti dalla durezza dei luoghi a vivere di essenziale per questo quando si sparse la voce sul detto di clayton non pochi si offrirono per andare a vedere cosa fosse veramente successo ci vollero alcuni giorni per organizzare un gruppo di uomini disposti a salire fin dove viveva tommy che già clayton resosi conto del passo falso compiuto sparì dal villaggio non poteva immaginare che vi fosse qualcuno disposto a perdere tempo per soccorrere una vedova dal momento che simili pensieri gli erano estranei lui voleva solo giustificare la morte del fratello ormai il guaio era stato commesso e dovette andarsene ben sapendo che non appena giunti sul posto avrebbero compreso partirono in pochi carichi di provviste medicinali sotto gli occhi stupiti dei più li guidava padre tobia un vecchio pastore protestante alto e magro ma duro come la roccia dei monti appalachi da cui proveniva assunse solerte il comando della compagnia sperando di poter fare qualcosa di utile in un luogo che lui definiva abietto e peccaminoso i due giorni di cammino necessari divennero tre a causa del maltempo ma quella era gente dura e in ogni caso la donna e il bambino dovevano essere salvati da qualsiasi cosa li minacciasse che fosse un uomo o l'inverno stesso quando giunsero nell'ampia radura dove sorgeva la casa vennero accolti da età intento a spaccare ciocchi di legno ma con due fucili carichi uno pronto puntato verso di loro e l'altro appoggiato a un cavalletto di legno da quel giorno la sua guardia era diventata attenta e meticolosa tobia lo osservò attentamente ne scrutò il volto e le cicatrici poi in silenzio si spinse più a fondo nel suo animo attraverso gli occhi limpidi e puliti certamente sai perché siamo qui straniero vero no fu pronta la risposta di età sapendo di mentire eppure dovresti rispose seccato un uomo dietro al reverendo ma il pastore alzando la mano tranquillo lo zitti dicendo a sua volta noi tutti conosciamo bene i fratelli wood ma tu stai spaccando legna con l'ascia di tommy breadford e vivi nella sua casa che ne è stato di lui e di margaret sua moglie con il figlio siamo qui disse margaret dalla soglia di casa con tommy accanto quella sera tobia accarezzando la testolina bionda di tommy junior disse con convinzione solo un grosso orso poteva aver ragione di quella montagna di muscoli che era tuo padre ricordati di lui con affetto e stima poi rivolgendosi a età anche sedeva accanto a margaret aggiunse con altrettanta convinzione non è bene che voi viviate nel peccato insieme nella stessa casa se volete io posso unirvi davanti a dio e agli uomini arrossirono entrambi ma annuirono insieme e la cerimonia si svolse immediatamente albeggiava appena quando tobia e i suoi partirono le nubi si stavano addensando fin dalla sera promettendo neve e se tutto avveniva come sempre appena fosse successo per molti mesi ognuno sarebbe rimasto dove si trovava quella sera età davanti alla stalla guardando il cielo nuvoloso si trovò a riflettere sul fatto che margaret fosse la sua prima moglie dal momento che non aveva avuto il tempo di sposare rebecca e nel farlo si rese conto che pur struggente percepiva il ricordo di lei sfumato come non gli era mai capitato prima mentre una gragnola di neve finissima e leggera iniziava a cadere fitta pensò che quella adesso era la sua famiglia dopo aver trascorso parte della sera accanto al fuoco collati lui e tommy dalla voce melodiosa di margaret intenta a cucire età si diresse svogliato verso il soppalco con un pensiero ostinatamente fisso nella mente se vorrai sarò tua fra un anno ma un anno è maledettamente lungo si disse sconsolato sostava inquieto nel suo letto già da tempo quando udì esili passi far cigolare le assi della scala che portavano a lui finse di non udire ma il cuore gli batteva forte dopo brevi e interminabili istanti margaret gli si accodò accanto assorbita dal suo grande corpo nudo non era un sogno il mattino seguente la neve in una sola notte era riuscita a coprire anche le chiome spoglie degli alberi più bassi cosa che in altri inverni era accaduto dopo ripetute nevicate ma la cosa non allarmò nessuno le braccia robuste di età avrebbero allegramente scavato corridoi per unire la casa con il fienile e la stalla mentre le mani amorevoli di margaret avrebbero preparato il cibo per nutrirle tutto era come doveva essere finalmente